Bene, buon pomeriggio, ben ritrovati. Allora, l'argomento che vediamo oggi è un argomento centrale a tutta la programmazione, non solo la programmazione strutturata. Parliamo del concetto di funzione, è un concetto che abbiamo già utilizzato, però ne abbiamo anche parlato addirittura ai tempi dell'Assembly, quando parlavamo delle subroutines, dei sottoprogrammi, però adesso cerchiamo di capire bene dal lato C++ cos'è una funzione, come si definisce una funzione, a cosa serve innanzitutto, come si definisce, come la si manda in esecuzione e poi parliamo anche del fatto che si possono passare a una funzione degli argomenti e vedremo come si passano gli argomenti alla funzione. Innanzitutto, cos'è una funzione? Una funzione è appunto un sottoprogramma, una parte di codice che per la sua importanza, per il fatto che svolge delle operazioni che possono essere svolte in tante parti del programma, diverse o addirittura per il fatto che utilizza degli algoritmi, impreventa degli algoritmi questa funzione che possono essere usati da tanti programmi, ebbene, si raccoglie il codice della funzione e con un meccanismo che è basato sulla call e la ret di cui abbiamo parlato già ai tempi dell'Assembly, si mette a disposizione questo programma già fatto perché lo si possa utilizzare all'interno di altri programmi. Così facendo, si implementa il concetto di programmazione modulare. Cioè, in pratica, cosa succede? Succede che un programmatore ai tempi nostri si può avvantaggiare tranquillamente di programmi già fatti nei decenni passati addirittura, perché quei programmi sono stati raccolti e messi a disposizione sotto forma di funzioni di libreria e quindi oggi li possiamo utilizzare anche noi. Questo non è necessariamente legato al concetto di funzione di libreria. Un concetto di funzione può anche essere gestito e utilizzato e avere un significato anche all'interno di un programma in cui la funzione la facciamo direttamente noi. Cerco di essere concreto. Supponiamo, per esempio, di avere un algoritmo particolarmente significativo. Potrebbe essere, per esempio, un algoritmo di calcolare la radice quadrata, elevare a potenza un numero. In questo caso abbiamo qui implementato e messo anche in diagramma di flusso un algoritmo noto come algoritmo di Euclide. Non so se è veramente attribuibile a lui. Comunque, per calcolare il massimo come un divisore di due numeri. Qui supponiamo che i due numeri vengono letti in input, in ingresso, e vengono depositati su due variabili A e B. Per esempio, in questo esempio, 14 e 12. L'algoritmo di Euclide funzionerebbe così. Innanzitutto, si va a vedere se la variabile B è zero. Se è zero, vedete che è implementato come un semplice flusso con l'uscita in testa, cioè il test che condiziona il flusso, il ciclo, chiedo scusa, in testa. Quindi questo si può interpretare e implementare come un while. Si va a vedere se la variabile B è zero. In questo caso no. Se fosse zero, si uscirebbe dal ciclo. Se non è zero, come quello che si chiede nel test, si entra nel ciclo. Si va a calcolare il resto della radice di A per B, che in questo caso il resto sarebbe 2, per cui viene messo nella variabile R. Dopodiché si dà ad A il valore di B, che è 12, e quindi A da 14 diventa 12, e poi si dà a B il valore di R. B è 12, dopo questo diventa 2. Dopodiché si va a vedere se 2 è diverso da zero, 2 è diverso da zero, e quindi di nuovo si calcola il resto di A, che questa volta è 12, diviso 2, il resto è zero, per cui R diventa zero. Si va a mettere in A il valore di B, che quindi A diventa 2. Si va a vedere, si mette in B il valore di R, che quindi B diventa zero. A questo punto B è zero, si esce dal ciclo, A diventa 2, stop. E la variabile A restituisce il massimo come un divisore. Adesso nessuno pensa che all'esame uno di noi possa essere in grado di concepire un algoritmo del genere, per carità. Però, avendo a disposizione per esempio l'algoritmo in forma di flusso, che lo si sappia tradurre in C o in C++, questo sì, si chiede a voi, a noi. La sintesi degli algoritmi è una cosa che è difficile, ripeto, in parte è un'arte, in parte è un qualche cosa che ci abbiamo quasi d'innato, abbiamo acquisito la capacità di ragionare in termini algoritmici, è un qualche cosa che forse ci abbiamo veramente dall'infanzia, chi più chi meno. Però va comunque esercitata probabilmente anche tutta la vita. Quello che però è il mio compito è di riuscire, in qualche maniera a farvi capire come concepire un algoritmo, avendolo ben chiaro in mente, scriverlo in C. In questo caso il ciclo è appunto implementato come un while, qui abbiamo che B l'ho chiamata beta e A l'ho chiamato alfa. Solo che per andare verso il concetto di funzione, ho fatto in maniera tale che questo ciclo venga utilizzato all'interno di un programma che non deve semplicemente calcolare il massimo condivisore di due numeri, di una coppia sola di numeri, ma deve calcolare il massimo condivisore di un certo numero di coppie di numeri. Allora il programma, come vedete, parte chiedendo all'utente quante coppie di numeri vuoi che io esamini, e questo numero viene battuto dall'utente sulla tastiera e mediante l'istruzione cin, qui, estrattore, viene messo nella variabile n. A questo punto parte un ciclo for che funzionerà, girerà n volte. Quindi per ogni coppia che verrà immessa, il programma cosa farà? Schriverà coppia numero e numero d'indice della coppia, poi andrà a sistemare nelle variabili alfa e beta i due numeri di cui si vuole calcolare il massimo condivisore e poi scriverà il massimo condivisore fra alfa e beta è e a questo punto fa partire il ciclo che prende beta ed alfa e come abbiamo appena visto lavorerà 8 volte e alla fine in alfa restituirà il risultato, cioè il massimo condivisore di alfa e beta cercato. A questo punto si stampa alfa sullo schermo e il programma finisce. Dunque, perché tutta questa introduzione? Tutta questa introduzione per dire che la parte centrale di questo programma, cioè quella che calcola il massimo condivisore di due numeri, in effetti è stata sostanzialmente una come dire, una delle tante scoperte della storia della matematica. e della aritmetica. Allora, come tale, probabilmente potrà essere utilizzata a chissà quante volte in chissà quanti programmi, forse anche addirittura in uno stesso programma potrebbe essere utilizzata tante volte, in punti diversi. Allora che cosa facciamo? Che ogni volta andiamo a riscrivere quel codice? In punti diversi del programma riscriviamo sempre quel codice? Si può fare, ma si può anche fare in maniera più intelligente. Cosa significa farlo in maniera più intelligente? Significa prendere quel codice, toglierlo da lì, toglierlo, metterlo da un'altra parte, magari su un file, in una maniera opportuna che stiamo per vedere, e farlo diventare una funzione che prende in input due oggetti, in questo caso due variabili di tipo intero, due valori di tipo intero, poi dopo parliamo di variabili, e restituisce un intero. Cioè una funzione che prende in input due numeri interi e restituisce un intero, che sarà il massimo condisore quando avrà finito, dei due interi letti in input. La dobbiamo quindi togliere da lì, al posto di quella roba verde, ci metteremo la chiamata della funzione, cioè la manderemo in esecuzione questa funzione, che avremo messo su un altro file, o forse anche su questo stesso file, tanto per iniziare lo mettiamo su questo stesso file, però la mettiamo in un pezzo di codice a parte, che sarà la definizione di una funzione. Cioè questa parte di codice può essere in qualche maniera gestita in maniera tale da mettere a disposizione o dello stesso programma in altri punti del codice, o addirittura di altri programmi. Quindi, che cosa stiamo per vedere? Stiamo per vedere come si definisce una funzione e come la si manda in esecuzione. Vediamo cioè la definizione di una funzione e la chiamata di una funzione. Chiamare una funzione significa mandarla in esecuzione in un certo punto del codice. Oltre alla definizione della funzione, c'è anche il concetto di dichiarazione di una funzione. La dichiarazione di una funzione è un qualche cosa che assomiglia alla definizione, ma non specifica il codice con cui la funzione è implementato. Andiamo per ordine. Questa è la definizione della funzione che abbiamo appena visto in C++. Adesso ne commentiamo le varie parti. Innanzitutto, la definizione di una funzione, cioè la scrittura del codice che implementa quella funzione, è fatta in questa maniera. Ci vuole una riga di intestazione in cui, innanzitutto, il programmatore deve trovare un nome da dare a quella funzione, la deve battezzare. Per esempio, in questo caso, e questo qui che va a fare, va a calcolare il massimo comundivisore di due numeri, allora il programmatore ha scelto MCD, massimo comundivisore. Una buona regola, che qui non è stata seguita, è quella di iniziare il nome delle funzioni con la lettra maiuscola. così si capisce che quello è l'identificativo che è relativo a una funzione. E poi, se per esempio il nome della funzione ha più parole nella lingua italiana o nella lingua inglese, per esempio massimo comundivisore, si vorrebbe fare così. Mettere tutto attaccato massimo comundivisore. M maiuscola, C maiuscola, D maiuscola. Massimo comundivisore. Questa qui non c'entra niente con la sintasi, il compilatore ignora totalmente quello che vi ho appena detto, ma è una convenzione fra noi programmatori. Per prima cosa bisogna scegliere un nome. Sembrerà banale, ma scegliamo un nome. Cioè, non scegliamo XY o CR7, perché non si capisce cosa significhi. Poi, oltre al nome, nell'intestazione, che è la prima riga, bisogna specificare il tipo del valore restituito dalla funzione. Attenzione, la funzione può prendere in ingresso, stiamo per vedere, quanti argomenti vuole, ma restituisce, quando avrà finito di lavorare, restituirà un valore. Uno solo. Se qualcuno ha fatto programmazione e è dubbioso di quello che io sto per dire, credetemi, datemi un pochetto di credito, poi alla fine spiegherò tutto. Alla fine, forse, veramente, fra un paio di settimane sarà tutto chiarissimo. La funzione restituisce un solo valore e, nell'intestazione, prima del nome della funzione, bisogna specificare il tipo del valore restituito della funzione. In questo caso, ad esempio, restituirà un valore di tipo intero, perché sta per prendere in ingresso due valori pure di tipo intero. la terza fondamentale componente della definizione della funzione è la definizione dei suoi cosiddetti argomenti formali o parametri formali. È una lista, una sequenza, di definizioni di oggetti separati da virgole, in questo caso ne sono solo due, inseriti dentro una coppia di parentesi tonde. qui abbiamo ad esempio int alfa int beta che significa? Significa che questa funzione prende in input due valori di tipo intero. Il tipo si specifica prima del nome del parametro o dell'argomento e i nomi di questi due argomenti in questo esempio sono alfa e beta. Quindi, cioè, questa funzione prende al primo posto un argomento che si chiama alfa è di tipo intero, al secondo posto un altro argomento che si chiama beta e che è pure di tipo intero. Tutta questa riga è l'intestazione della funzione. Segue l'intestazione un blocco quindi aperta parentesi graffa e chiusa parentesi graffa dentro ci saranno delle istruzioni questo blocco cioè le istruzioni che ci stanno dentro si chiama corpo della funzione ed è quello appunto il codice che la funzione eseguirà. in questo esempio il corpo della funzione inizia con una definizione di variabile cioè una variabile resto che è di tipo intero questa variabile essendo definita dentro la funzione si dice che è una variabile locale alla funzione non è certamente una variabile globale che la variabile resto sarà allocata in memoria sulla RAM in particolare in particolare sullo stack solo se e quando questa funzione verrà mandata in esecuzione da qualche altra funzione resto quindi è una variabile locale e lei così come anche i parametri cioè gli argomenti formali della funzione non esistono sulla RAM se non non vengono allocati sulla RAM se non al momento in cui la funzione viene chiamata viene mandata cioè in esecuzione poi c'è il codice in questo esempio della funzione che non lo stiamo a commentare perché è proprio l'ho preso dal programma di prima è uguale specificato è lo stesso codice l'ho tolto dal programma ho fatto tagli e cuci e l'ho incollato qui dentro quindi non lo stiamo a commentare ma alla fine la funzione con la parola chiave return che ricorda la ret che abbiamo visto all'epoca dell'assembly restituisce il risultato il risultato dell'elaborazione della funzione in questo caso il risultato viene restituito al programma chiamante che la chiamerà che la manderà in esecuzione utilizzando come contenitore per restituire il risultato un parametro formale uno dei due parametri formali alfa altre funzioni per restituire un valore al programma che la manda in esecuzione utilizzano una variabile locale si può anche fare oppure potrebbe esserci che il valore restituito è un valore secco cioè non il nome di un parametro o di una variabile per esempio 0 avete mai visto return 0 o meno 1 oppure addirittura potrebbero starci potrebbero starci nel caso in cui stiamo definendo una funzione che non restituisce alcun valore esistono anche funzioni che non restituiscono alcun valore vengono chiamate procedure quindi cos'è una procedura come si differenzia una procedura da una una procedura da un sottoprogramma così come la funzione una procedura e una funzione sono sottoprogrammi che differenza c'è tra la procedura e la funzione che la procedura non restituisce i risultati serve solo per fare delle cose ma non serve affinché mi restituisca un risultato la mando in esecuzione perché faccia delle cose mi interessa l'aspetto esecutivo e non l'aspetto funzionale diciamo così del valore di ritorno che mi restituirà dopo la definizione di una funzione non si mette il punto e virgola questa è una notazione sintattica perché essa stessa non è un'istruzione è una definizione un pezzo di codice che non va in esecuzione se non al momento in cui sarà chiamato ripeto se sarà chiamato simile alla definizione di una funzione è la dichiarazione di una funzione la dichiarazione somiglia all'intestazione di una funzione ma innanzitutto si differenzia dalla definizione di una funzione perché non c'è il codice non c'è il corpo è solo intestazione quella che vedete lì è la dichiarazione della medesima funzione che abbiamo appena visto come vedete è fatta di una sola riga la dichiarazione di una funzione non c'è il corpo è simile all'intestazione della definizione di una funzione l'unica cosa è che quando si va a definire gli argomenti non è necessario anzi non è anche opportuno non c'è senso mettere il nome dei parametri in quanto che non è seguita quell'intestazione dal corpo della funzione e quindi non serve dare un nome a quei parametri l'importante è dire al compilatore come sarà chiaro fra un po' che quella funzione lì che sto dichiarando non definendo ammette due parametri in ingresso di tipo intero dopo la definizione vai ok la domanda è se la dichiarazione di una funzione rallenta il codice ti posso rispondere quando faccio l'esempio così in quel punto sarà chiaro a tutti a cosa serve la dichiarazione e rispondo alla sua domanda la terza ed ultima componente della storia delle funzioni la prima la definizione secondo la dichiarazione ma è più importante la definizione della dichiarazione la terza invece è importante tanto quanto la definizione ed è la chiamata di che sto parlando sto parlando del momento in cui la funzione viene lanciata allora perché sia ben chiaro come si fa a farla questa chiamata sono tornato sul programma di prima da dove avevo tagliato via il codice per calcolare il massimo condivisore l'ho tolto al posto di quel codice eccolo qui c'è questo verdino qui c'è la chiamata di quella funzione come si fa a mandare in esecuzione una funzione cioè a chiamarla e basta semplicemente scrivere il nome esattamente come si chiama una persona per nome però l'unica cosa è che si chiama la funzione ma se la funzione ammetteva chiedeva cioè dei parametri in input quella di prima per esempio 2 bisogna passarli sempre con la sintassi delle parentesi tonda aperta e chiusa i valori che passiamo alla funzione perché la funzione c'è gli elabori questi valori in questo caso alla funzione mcd la stiamo chiamando e gli passiamo due variabili non due valori per esempio non li passiamo 14 e 12 ma li passiamo a e b attenzione dopo spiego cosa succede in questo momento però intuitivamente cosa starà a succedere starà a succedere che il valore che c'ha a viene passato qui e il valore che c'ha b viene passato qui ma ci ritorno perché questa è una cosa importantissima quindi che cos'è la chiamata di una funzione la chiamata di una funzione è il nome della funzione banalmente con fra parentesi tonde i valori che passiamo a quella funzione perché la funzione li elabori e ci faccia quello che è previsto che ci faccia se non ci deve fare niente per esempio li stampare una procedura li stamperà se invece deve elaborare un valore di ritorno lo farà e ce lo restituirà e dove sarà restituito questo valore di ritorno è sempre lì al punto della chiamata cioè in questo momento parte la funzione mcd prende quello che sta in a e lo mette dentro la variabile alfa dentro il parametro alfa prende quello che sta in b e lo mette dentro il parametro beta elabora restituisce ciò che ci sarà alla fine elaborazione dentro il parametro alfa e questo valore nell'esempio che ho fatto prima 2 verrà messo qui e per cui stamperà 2 è chiaro? davvero? vai io ho ancora la domanda tua dopo ecco infatti metto insieme la risposta alle due domande non e ho un esempio quando arrivo all'esempio rispondo a tutte e due una procedura l'ho appena detto è una variabile è una funzione che non restituisce nulla a che mi serve? mi serve per fare delle azioni che mi sono utili raggruppare in un codice a parte per esempio questa qui stampa il massimo condivisore fra A e B e C allora io supponiamo che io nel mio programma questa cosa la faccia tante volte potrei dire invece che sta a ripetere quel codice lì tante volte mi faccio una funzione per mandare in esecuzione quel codice tante volte ogni volta che lo devo mandare in esecuzione invece che riscrivere il codice scrivo solo in quel punto la chiamata della funzione questa funzione prende in input tre valori di pointero A B e C e li usa in queste istruzioni di stampa semplicemente per stamparne il valore sullo schermo che cosa restituisce al chiamante questa funzione? niente allora per specificare che non restituisce un valore di alcun tipo invece che int int scriveris invece che char scriveris invece che float scriveris scriviamo void scriveris void vuol dire vuoto non c'è niente non c'è nessun tipo da restituire perché semplicemente questa funzione non restituisce niente è una procedura una funzione può addirittura non avere argomenti per esempio io devo scrivere la licenza del codice che ho prodotto è una spaparacchio che è lungo 50 pagine invece che mettere tutto questo testo nel codice sorgente mi faccio una funzione a parte che mi scrive tutto questo spaparacchio e all'interno del codice mando in esecuzione una procedura che mi scrive quel testo e basta in questo caso la funzione non prende niente in input ovviamente in questo caso non restituisce neanche niente torno un attimo alla chiamata perché ho visto le due parentesi appiccicate adesso in quest'ultima procedura e mi è tornato in mente che vi devo dire che se una funzione non prende niente in input all'atto della chiamata comunque bisogna scrivere il nome della funzione poi aperta parentesi tonda chiusa parentesi tonda significare che quella è la chiamata di una funzione una funzione che non prende niente in input infatti non gli passo niente ma sempre che le due parentesi aperta tonda e aperta chiusa tonda le devo comunque scrivere all'atto della chiamata ma poi facciamo degli esempi abbiamo detto cos'è una funzione molto velocemente spero che però sia chiaro quello che sto dicendo però in realtà le funzioni almeno una funzione l'avevamo già vista tante volte ormai il main il main è una funzione infatti inizia con la sua definizione inizia con int perché restituirà un valore tipo intero che può essere 0 o meno 1 o quello che volete voi ha un nome main e ha anche degli argomenti che fino adesso veramente abbiamo sempre supposto che non gli davamo alcun argomento ma se per caso il nostro programma una volta compilato lo dovessimo lanciare per esempio da riga di comando passandogli degli argomenti che faremo l'esempio un po' più in là allora avrebbe degli argomenti e poi parleremo di come mandare degli argomenti al main però il main è una funzione e infatti dopo il main c'è il corpo del main e c'è anche il return return 0 nel caso del main vuol dire che è andato tutto bene è un segnale convenzionale che viene mandato chi è che lancia il main il sistema operativo esatto il loader il caricatore del sistema operativo all'atto che io scrivo su riga di comando il nome del mio programma compilato e poi premo invio come ho detto tanto tempo fa il caricatore quella parte del sistema operativo che va sul disco fisso prende l'eseguibile lo mette sulla RAM e lo manda in esecuzione è proprio è lui che manda in esecuzione la funzione main e la funzione main restituirà se è arrivata fino alla fine restituirà il valore 0 a lui al sistema operativo e il sistema operativo come ho detto tante altre volte mi pare prenderà questo 0 che gli viene restituito con un segnale convenzionale che dice ok tutto ok è andato bene c'è ancora le domande in sospeso a cosa servono le funzioni a implementare è la cosiddetta programmazione modulare se non fossero state inventate le funzioni non saremmo qui oggi a parlare l'informatica non avrebbe avuto questo successo che ha avuto e che ha cambiato per sempre la storia di questo pianeta per esempio cioè che cosa significa la programmazione modulare significa che voi noi dobbiamo imparare a programmare in questa maniera per esempio abbiamo un programma cioè abbiamo un problema e dobbiamo scrivere un programma per quel problema lì dobbiamo scrivere un programma per leggere una lista di caratteri della tastiera metterli in ordine alfabetico visualizzarli sullo schermo non lo so perché ma questo è quello che dobbiamo fare programmare in maniera modulare significa questo ahi non so minimamente come si fa sta cosa è una cosa molto complessa però intanto una cosa l'ho capita che devo fare una roba che è una sequenza di tre operazioni di tre di tre dei tre sottocompiti allora comincio a pensare beh mi faccio una funzione per leggere per il punto uno una funzione per mettere in ordine alfabetico e una funzione per visualizzare sullo schermo questo si chiama ragionare in maniera modulare poi posso chiamare due amici e gli dico senti mi fai una funzione per mettere in ordine alfabetico dei valori come si potrebbe impostare ne chiamo un altro se io ti passo una serie di valori mi sai fare una funzione che li visualizza sullo schermo e lui lavorerà e io mi prendo la prima funzione e poi mi prendo pure il main ma il main è una cavolata perché il main a questo punto sarà main lancio la funzione leggi i caratteri lancio la funzione ordinali lancio la funzione scrivi i caratteri return zero chiuso il programma ovviamente a questo punto non ho fatto niente apparentemente non ho fatto niente intanto ho cominciato a ordinare le cose quindi a questo punto ho scomposto il problema grosso in sottoproblemi ciascun sottoproblema potrà essere beh chiaro bisogna che dialoghiamo un po' però ciascun sottoproblema sarà affrontato in maniera diversa dagli altri ovviamente dopo bisogna capire come passarsi i parametri questo non è però intanto ho scomposto il problema in sottoproblemi questa è programmazione modulare se vi sembra cosa da poco vi state sbagliando perché in realtà è cosa da molto a questo punto ci sarà qualcuno che implementerà la funzione legge carattere qualcuno che implementerà la funzione ordinare qualcuno che implementerà la funzione scrive caratteri allora stiamo arrivando la terza domanda che avrà tutta la stessa risposta se io scrivo le cose così come le ho scritte a parte che qui ci ho messo i puntini 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 per cui adesso non mi sta interessando il codice ovviamente però il compilatore si arrabbierebbe anche se questi puntini non ci fossero per un altro motivo che è quello che ha evidenziato lei si arrabbierebbe perché il compilatore comincia a compilare dall'alto verso il basso main int main gli va bene poi a un certo punto legge caratteri e legge caratteri è un nome cioè un identificatore che lui non sa minimamente cosa sia allora ti dice legge caratteri non definito perché infatti legge caratteri è in nome di una funzione ma essa questa funzione è definita dopo per risolvere questo problema possiamo fare in due modi o prendiamo la funzione int legge caratteri la definizione della funzione int legge caratteri e la scriviamo prima del main e allora quando andiamo a compilare leggere caratteri gli va bene ma quando va a ordinare dice ordinare non so cos'è allora lo devo fare anche per questo e poi lo devo fare anche per questo se di funzioni ce ne ho 20 e se le funzioni non sono corte così ma sono lunghe questo vuol dire che il mio file sorgente mi fa vedere prima migliaia di righe di funzioni e solo alla fine ci sarà il main e quindi io mi stanco a leggere funzioni perché non capisco a cosa servono perché chiaramente quando io vado a correggere i vostri compiti prima vado a leggere il main che avete scritto per vedere come avete impostato la soluzione del problema poi quando che vedrò che ci sono delle chiamate di funzione andrò a vedere come avete implementato la funzione e come gli avete passato anche i parametri ma piano piano invece se io mi devo leggere prima mille righe di funzioni e non so a cosa servono quelle funzioni perché non so come saranno usate non so cosa signifino quei parametri che ci sono scritti lì eccetera non capisco niente a questo a questo servono le dichiarazioni delle funzioni le dichiarazioni beh cominciamo da qui anche a questo servono le dichiarazioni delle funzioni servono per anticipare prima del main che il main utilizzerà una funzione che ha quel nome che restituisce quel tipo e che prende in input 8 argomenti ciascuno di quel tipo quindi in pratica che io cosa faccio prendo l'intestazione della funzione int legge carattere ci metto un punto la copio la scrivo prima del main e ci metto un punto e virgola quella là sarà la dichiarazione della funzione se io lo faccio sia per questa che per questa che per questa il compilatore non c'ha problemi compila tutto senza nessun problema perché quando nel codice del main troverà la chiamata a quella funzione che gli ho passato supponiamo tre parametri lui dice ah questa il compilatore dice ah questa è il nome di una funzione va a vedere se è stata già dichiarata prima del main la trova poi vede che c'ha tre parametri il primo è un char il secondo è un int e il terzo è un float e nell'atto della chiamata al primo posto gli è stato passato il carattere asci a al secondo posto gli è passato il valore 35 al terzo posto gli è passato il valore 35.1 ok a posto compila e va oltre la dichiarazione della funzione serve a questo un altro motivo sarà quando parleremo sarà chiaro quando parleremo delle librerie perché lì ci sarà qualche concetto in più che ha anche a che fare con l'open source con la licenza del software ma a quel punto faremo un discorso ripilogativo e vedremo anche meglio l'importanza delle dichiarazioni delle funzioni a questo punto non so se rallenta o non rallenta non rallenta perché in pratica serve solo all'atto della compilazione la dichiarazione di una funzione cioè serve solo all'atto della compilazione per impedire al compilatore di dare errore dopodiché il compilatore quando che incontrerà una chiamata di una funzione farà una call da qui a qui la dichiarazione non c'entra più niente no 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 serve solo il prototipo serve solo in fase di compilazione dopo che è stato prodotto l'eseguibile il prototipo non esiste più infatti non alloca niente in memoria il prototipo è solamente una direttiva al compilatore è una informazione al compilatore che gli dice compilatore stai buono dentro ci sarà una funzione che si chiama con quel nome e che prende quei parametri in input e restituisce quel valore in output se tu metti tutte le funzioni prima del main non ci serve la dichiarazione ma comunque le deve comunque compilare no ma la compilazione viene fatta prima che lo usi il concetto di usare è un concetto a runtime non cambia niente dopo per domande eventualmente io mi trattengo adesso direi di andare avanti ah no se avete domande importanti questo è un esempio appunto che fa uso dei prototipi allora il prototipo di una funzione sarebbe la dichiarazione di una funzione dichiarazione di una funzione e i prototipi di una funzione sono sinonimi allora qui abbiamo un programma che serve per calcolare una qualche potenza da 0 a 5 di un numero e allora molto brevemente questo programma fa uso qui la parte rossa di alcune definizioni di funzioni c'è una definizione per esempio pote che è l'elevamento a potenza che fa uno switch che prende la base e l'esponente e a seconda dell'esponente se l'esponente è 0 restituisce 1 qualunque numero elevato a 0 restituisce 1 se l'esponente è 1 restituisce quel numero se l'esponente è 2 restituisce il quadrato di b quad chi sarà sto quad non si sa se è 3 restituirà il cubo 4 quad case 5 restituisce quinn quad cubo quad requin non si sa che cos'è ma infatti sta scritto dopo quad è il nome di una funzione che prende un float e restituisce lo stesso moltiplicato per se stesso cubo banalmente non sto manco a dire è chiaro ma perché ho messo tutto questo in rosso tutto questo l'ho messo in rosso perché questo non compilerebbe niente perché tutte quelle definizioni a incominciare dalla stessa pote poi fra l'altro vedete che pote chiama le altre quindi non è che una funzione deve essere per forza chiamata dal main il main chiama una funzione ovviamente perché lui è una funzione tutte le funzioni possono andare in esecuzione le funzioni ok perché è in rosso questa parte questa parte è in rosso perché il compilatore non la compila non la compilerebbe se non ci fosse quella parte in verdino lì cioè la raccolta prima del main dei prototipi di queste cinque funzioni i prototipi altrano che non sono che l'intestazione delle funzioni con un punto e virgola e come vedete i nomi dei parametri cioè degli argomenti sono scomparsi perché sono scomparsi perché non c'è senso mettere nel prototipo il nome di un parametro in quanto che non viene menzionato poi il codice cioè non c'è il codice bene vabbè è un programmino ve lo vedete con calma anzi ve lo scrivete ci giocate ci fate delle modifiche fate anche la potenza sesta così vi prendete confidenza con con le funzioni il tipo del dato il dato restituito può essere un qualunque tipo può essere uno dei tipi primitivi che abbiamo visto prima di Pasqua o può essere un tipo definito dall'utente e qui nell'esempio addirittura si parla di altri tipi che sono i puntatori che ancora non abbiamo fatto e poi si parla di tipi definiti dall'utente lo struct che ancora non abbiamo fatto eventualmente se serve ci ritorniamo beh diciamo che una funzione può restituire un valore di qualunque tipo se per esempio deve restituire più cose per esempio nome di un individuo cognome di un individuo età dell'individuo eccetera probabilmente questo programmatore che ha in mente questa funzione dovrà definire una struttura di dati ma lo vedremo quando faremo le struct che raccoglie tanti dati relativi ad un individuo e poi sarà restituito lo struct e la struttura come valore restituito dalla funzione ma sto parlando di cose che non potete capire perché ancora non ne abbiamo parlato per far restituire dalla funzione il valore si usa la parola come abbiamo detto return che può avere un'espressione come argomento ci possono stare le parentesi tonde o ci possono non essere entrambe le sintassi sono accettate una funzione può avere più di un return termina appena viene eseguito uno dei due il primo dei due ce ne ha due ne può avere anche quante ne volete ma terminerà l'esecuzione della funzione appena viene eseguita il primo return che viene eseguito per esempio una funzione potrebbe avere un if e else se una certa cosa restituisci a se no restituisci b quindi nel codice ci sono due return il valore eseguito è sempre uno perché appena incontra il primo return termina la funzione quindi non può restituire un altro possiamo avere uno switch con 20 alternative 20 return il primo dove si entra finisce la funzione come ho detto prima il return non può restituire più cose se restituisce più cose deve restituire per forza uno struct no non si può fare restituisce una sola cosa la funzione in C la chiamata l'abbiamo detta l'unica cosa che voglio ricordare qui è che siamo per esempio nel main mandiamo in esecuzione la funzione 1 eccola qua in pratica quello che parte è una call il flusso del codice va alla prima istruzione della funzione chiamata la funzione chiamata terminerà con un return il return sarebbe il ret leave ret che abbiamo visto nell'assembly e adesso l'argomento caldo adesso chi ha fatto programmazione saprà che alle funzioni si possono passare gli argomenti o per valore o per riferimento adesso questo che sta qui a parlare in questo momento vi dice che vi hanno detto una balla perché in realtà alle funzioni in C in C++ gli argomenti si passano solo per valore di che cosa sto parlando sto parlando di questo proprio nell'esempio che abbiamo visto prima del massimo condisore a un certo punto si lancia si lancia la funzione MCD passandogli non 14 e 12 cioè calcomi il massimo condivisore fra 14 e 12 cioè due valori costanti ma gli si passa in questo esempio il nome di due variabili del main o globali due variabili due contenitori che stanno sulla RAM in quel momento cioè non gli sto passando due right value 14 12 ma gli sto passando due left value cioè due indirizzi della RAM l'effetto che si ha è che non è che la funzione MCD parte prendendo in alfa l'indirizzo di A e in beta l'indirizzo di B no la funzione MCD parte ma va sulla RAM all'indirizzo di A left value va a vedere cosa c'è dentro nella RAM right value lo prende quel right value e lo passa ad alfa cioè in pratica A e B non vengono passati come tali ma vengono utilizzati come due scatole due contenitori per passare il valore che essi contengono in quel momento al momento in cui viene effettuata la chiamata non ci sono altri modi per passare argomenti alle funzioni o gli si passa il valore o gli si passa una variabile che contiene quel valore nel caso che gli passo la variabile che contiene quel valore la variabile non rimane influenzata perché lei semplicemente pone il suo valore alla funzione ma la funzione lavorerà sui suoi parametri e non toccherà quella variabile mi spiego meglio supponiamo di avere questa funzione una funzione che la guardiamo con calma perché poi ci ritorniamo quando faremo i puntatori e i riferimenti una funzione scambia valori variabili che in realtà è una procedura non restituisce nulla e c'è un programmatore alle prime armi come possiamo essere noi a cui il professore ha dato come esercizio quello di implementare una funzione una procedura che serve per scambiare di posto i valori di due variabili cioè io gli passo due variabili supponiamo a e b che ci avranno in quel momento due valori supponiamo 14 e 12 e la funzione la procedura deve mettere in a 12 e in b 14 cioè deve scambiare i valori ok una procedura per scambiare i valori di due variabili che gli vengono passate al lato della chiamata questo è l'esercizio allora il programmatore alle prime armi parte e si ricorda come si fa a scambiare di posto due variabili una tecnica vi ho fatto vedere un'altra con l'XOR ok questa è quella convenzionale che sanno tutti e cioè che fa uso di una variabile ausiliaria lui diligente questo ragazzo questo programmatore alle prime armi si definisce una variabile ausiliaria AUX poi mette in AUX il valore di A ad A dà il valore di B e a B dà il valore di AUX effettivamente quel codice lì cioè le tre istruzioni scambiano di posto i valori di A e di B l'abbiamo visto ci credete è chiaro che lo fa per cui lui tutto soddisfatto compila il suo programma con questa funzione la mette nel suo main cioè dopo il suo main prima del suo main così non abbiamo il prototipo nel main ci sta una variabile X che c'è il valore 4 e una variabile Y che c'è il valore 5 poi lancia la funzione la procedura scambia valori gli passa X e gli passa Y e subisce una delusione tremenda perché X ed Y che avevano 4 e 5 alla fine del programma li va a stampare ci hanno ancora 4 e 5 cioè la procedura non ha scambiato proprio niente perché esatto perché ha scambiato A e B e non XY cioè questo è l'implementazione di quello che ho appena detto io ho X uguale 1 Y uguale 2 lancio la procedura scambia gli passo X e gli passo Y poi gli dico stampami il valore di X e mando X stampami il valore di Y e mando Y in output infatti in output c'è scritto X uguale 1 mi restituisce X uguale 1 Y uguale 2 cioè non ha non ha messo in X2 e in Y1 perché non ha fatto questo come ha risposto lui perché in C in C++ in tutti i linguaggi che volete voi non esiste il concetto i parametri vengono passati per valore punto cioè se io do una variabile il nome di una variabile a una funzione quella variabile fa da supporto per trasferire il proprio valore al parametro della funzione ma lei non è coinvolta succede esattamente quello che adesso cerco di fare con questa mini animazione allora questo è lo stack c'è il main che ha riempito la sua parte di stack c'è le sue variabili locali X ed Y stanno già lì poi parte la chiamata la funzione scambia X Y cioè dentro il main c'è questa chiamata di funzione e il main prende la variabile X e la passa la procedura scambia e lo stesso fa con la Y l'effetto è che il puntatore alla base dello stack sale perché c'è una chiamata di funzione c'è la call tutti i registri vengono messi nello stack nello stack ci viene messa anche la variabile ausiliaria della funzione scambia la variabile locale così come queste qui che erano variabili locali al main stavano già nello stack più i parametri formali o argomenti formali della funzione scambia che si chiamano A e B questo si chiama A questo si chiama B questo si chiama X questo si chiama Y ma sono diversi all'alto della chiamata cioè qui la X passa il suo valore ad A perché il passaggio avviene per corrispondenza di posizione all'interno questo va nel primo argomento formale e questo va nel secondo argomento formale e così via e Y viene passato a B risultato il valore 1 è ancora in X ma è anche in A e il valore 2 è ancora in Y ma è anche in B a questo punto parte la funzione scambia che mette A in AUX il valore di A in AUX mette in A il valore di B e poi mette in B il valore di AUX e ha fatto il suo lavoro solo che come le stelle X ed Y stavano a guardare non sono rimaste minimamente toccate da questo gioco questo balletto che hanno fatto A e B perché spero di avervi convinti il passaggio di argomenti a una funzione è per valore punto quando faremo i puntatori e i riferimenti capiremo come si può aggirare il problema della funzione scambia ma ancora è troppo presto quando faremo i puntatori e i reference cioè i riferimenti spiegherò è chiaro quello che ho appena detto perché i ragazzi le cose vanno prese per gradi e devono essere semplici chiaro per tutti cerchiamo allora di andare verso allora un recap parziale di quello che abbiamo visto fino adesso gli argomenti tipo del risultato argomenti formali corpo della funzione il codice quali sono gli argomenti formali quelli che stanno scritti nell'intestazione della funzione gli argomenti attuali o i parametri attuali allora A e B sono gli argomenti formali di scambia x e y sono i suoi argomenti attuali è un nome che è stato dato nel corso del tempo una cosa che in C non si può fare che si poteva fare in Pascal per esempio è dichiarare definire una funzione dentro una funzione ecco questo non si può fare in C una definizione di una funzione non può stare nel main deve stare fuori dal main invece in Pascal si poteva fare brevemente alcune funzioni particolari le funzioni ricorsive sono funzioni che mandano in esecuzione se stesse per esempio abbiamo appena visto l'algoritmo per calcolare il massimo comundivisore che fa uso di un while di un ciclo qui ne ho riportato un'altra versione che invece è implementata in forma di ricorsione questa funzione MCD calcola il massimo comundivisore di alfa e beta ma chiamando se stessa provate cosa significa chiamare se stessa è che parte un codice che è perfettamente identico al codice che è chiamante tutto qua sempre sempre che lo stack sale attenzione perché ogni chiamata implica una nuova funzione e quindi lo stack sale a ogni chiamata il fatto che il codice che viene eseguito è sempre il medesimo è del tutto secondario dal punto vista concettuale come possa funzionare quest'algoritmo ricorsivo è altra cosa adesso potremmo se avessimo un quarto d'ora lo potremmo vedere nel dettaglio ve lo lascio come esercizio più interessante è il fattoriale ugualmente interessante è il fattoriale abbiamo pure visto ieri le implementazioni del fattoriale come while come do while l'ho saltato ma si poteva fare proprio come do while e come for e ora lo stiamo a vedere lo stesso il fattoriale implementato in forma di funzione ricorsiva di nuovo se ci avesse un quarto d'ora vi farei vedere come funziona l'algoritmo però ve lo posso lasciare come esercizio ve la sentite di farlo da soli fatelo a casa giocateci e vedete come funziona l'algoritmo ricorsiva a giocare con questi algoritmi lo posso ve lo posso lasciare come compito ma quello che vi sto per dire ve lo devo dire perché non ci arrivereste mai da soli a capirlo e il messaggio è questo qui se avete in mente di implementare un algoritmo in forma ricorsiva per esempio il fattoriale vi devo dire la verità la prima volta che ho pensato al fattoriale non so perché me l'hanno fatto vedere stavo su tutto sul libro ma io il primo fattoriale che ho visto era questo qui e cioè perché il fattoriale che cos'è è una funzione sostanzialmente che chiama se stessa perché il fattoriale di un numero altro non è che quel numero moltiplicato il fattoriale di quel numero meno uno e quindi il concetto più immediato il modo più immediato per pensare un algoritmo e calcolare il fattoriale è riutilizzare il fattoriale se stesso il fattoriale stesso perché il fattoriale di un numero altro non è che quel numero moltiplicato il fattoriale di cosa? di quel numero meno uno e il fattoriale di quel numero meno uno sarà quel numero meno uno moltiplicato per il fattoriale di quel numero meno due e così via non c'ho tempo ripeto per illustrare questa cosa però vi do un'informazione che vi sarà utile per tanto tempo l'informazione è questa è un altro teorema della scienza dell'informazione quando che avete pensato un algoritmo ricorsivo per implementare una funzione bravi ma sappiate che è sempre possibile trovare un altro algoritmo che invece che della ricorsione fa uso dell'iterazione cioè del while sempre e fra il primo quello ricorsivo e il secondo quello iterativo o sono ugualmente efficienti ma raramente la stragrande maggioranza delle volte è più efficiente il secondo cioè quello iterativo perché non c'è non ci sono due cose non c'è l'overhead dovuta alla chiamata di funzione la call e la ret e non c'è l'aumento dello stack quindi sia in termini di tempo non c'è la call e la ret e sia in termini di memoria non c'è l'aumento dello stack è migliore la versione iterativa allora perché si implementano ancora in maniera ricorsiva per puri motivi estetici perché non c'è ombra di dubbio che questo algoritmo esteticamente è più bello di quell'altro è quello lì pure soprattutto fattoriale più che estetici direi cosmetici via adesso stiamo andando verso la fine di questa lezione importante sulle funzioni vi faccio arrivare dei messaggi perché voglio considerare che diventerete programmatori esperti allora vi do una serie di messaggi di informazioni che sono da programmatore c++ professionale anche se non serviranno in questo corso li lancio poi andrete sui forum primo in c++ gli argomenti di una funzione si possono pure assegnare per default che significa che significa che se io per esempio ho una funzione che normalmente quando parte assume certi valori in input normalmente non sempre perché se fosse sempre così allora potrei quegli argomenti metterli dentro al codice stesso e non passare ma normalmente diciamo così prende gli stessi valori più spesso diciamo allora io quei valori invece che passarglieli glieli posso assegnare per default per default significa che in assenza che ti lancio con un certo valore tu prendi quel valore lì e come si fa questo ovviamente è c++ non è c e cioè per esempio io posso definire una funzione funsdef che residisce un carattere e che poi prende tre argomenti un argomento 1 che è di tipo intero e che poi ci metto uguale 1 quello uguale 1 significa che se non gli passo in quel posto nessun argomento si intende che l'argomento che non gli ho passato è 1 secondo argomento è un carattere il nome di questo argomento è c e se non gli passo niente si intende che è come se gli avessi passato la maiuscola il terzo argomento si chiama f val è un float e per default c'è il valore 45.7 quell'f che cos'è? quell'f è un errore 45.7 chiedo scusa dopo di che questa funzione funsdef dentro un codice in main o dentro un'altra funzione io la posso chiamare in vari modi per esempio la mando in esecuzione funsdef è il passo 9 z e 91.5 qual è l'effetto? che parte la funzione funsdef che non so cosa fa lì non c'è scritto è una funzione ipotetica ma il concetto è questo che l'uno non vale più non vale più la A non vale più 45.7 perché vengono tutte e tre rimpiazzate rispettivamente da 9 z e 91.5 ma se io invece la lancio la stessa funzione solo con due parametri il compilatore C si arrabbia perché non trova la corrispondenza di parametri perché la funzione era definita con tre parametri la chiamo con due errore il compilatore non compila invece in C++ questo 15 anni adesso veramente è un po' che non lo verifico se è ancora valido però 15 anni fa compilava 10 anni fa l'ultima volta che lo verifico e che cosa succede è che 25 prende il posto di 1 W prende il posto di A il terzo rimane quello settato da default se lo lancio con solo parametro è solo il primo parametro a essere rimpiazzato se lo lancio senza parametri vuol dire che praticamente mi stanno bene i valori di default tutte e tre ma quella chart è nella definizione di argomenti default o va fatta nell'intestazione della funzione? si va fatta nell'intestazione della funzione io ci ho messo il punto e virgola in maniera un po' peregrina perché sembra che quella sia un prototipo nell'intestazione della funzione va fatto secondo concetto questo è un concetto invece anche del C ed è per programmatori esperti si parla qui di efficienza una funzione può essere anche definita in line cosa significa? allora si tratta innanzitutto ve lo dico subito di funzioni che hanno un codice molto piccolo e che vengono eseguite tante volte per esempio in un ciclo che viene eseguito 10.000 volte viene chiamata per 10.000 volte la stessa funzione allora per 10.000 volte verrebbero fatte call e ret call e ret call e ret funziona però per motivi di efficienza si può ricorrere a questo stratagemma e cioè nella definizione della funzione all'atto della definizione della funzione al valore del tipo restituito intero per esempio anteporre la parola riservata in line per il resto la definizione identica questa è una funzione per esempio che fa prende un certo numero e gli somma 15 e restituisce lo stesso numero più 15 è un codice banale e perché l'ho fatto non lo so però probabilmente è una cosa che devo fare un milione di volte allora invece che fare per un milione di volte call e ret la definisco in line qual è l'effetto l'effetto è questo che il compilatore il preprocessore appena trova quella parola in line fa una roba un po' è un po' un salto che fa va a prendere il codice della funzione cioè quello compreso fra le due parentesi graffe e lo va a rimpiazzare nel codice tutto il codice alla chiamata della funzione cioè al posto della chiamata della funzione ci mette il codice ci scrive cancella la chiamata cut and paste cancella la chiamata e ci mette il codice della funzione ce lo riscrive proprio riscrive il codice cioè fa quello che il programmatore non voleva fare lo fa lui qual è il vantaggio è che non c'è la chiamata della funzione al posto della chiamata c'è la mandata in esecuzione del codice della funzione diretta sì 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 chiedo scusa la retro no mi copierebbe n più 15 certo sì sì cioè in pratica il compilatore dice ma che l'hai fatta a fa sta roba tanto vale che ci scrivi n più 15 e via te lo faccio io perché stavi a fare una sciocchietta altri concetti veloci stiamo andando alla fine però ecco sono piccole cose che vi dico poi le cosiddette classi di immagazzinamento dunque le abbiamo già viste in realtà due di queste tre le abbiamo già viste sono parole riservate che servono per cambiare lo scope delle variabili e sono dei variabili o degli identificatori quindi o di variabili o nomi di funzione adesso che abbiamo fatto le funzioni finiamo la nostra storia il nome di una funzione è l'indirizzo è l'indirizzo della prima istruzione della funzione così come il nome di una variabile è l'indirizzo della ram di quel dato il nome di una funzione è l'indirizzo sulla ram della prima istruzione della prima istruzione di quella funzione quindi perché la chiamata di una funzione altro non è che il nome di quella funzione in pratica è una call all'indirizzo rappresentato dal nome di quella funzione in entrambi i casi nomi di variabili nomi di funzioni si parla adesso di identificatori e per entrambi i casi si parla di scope cioè ambito di visibilità di questi identificatori dunque le tre parole che stiamo per vedere le classi di immagazzinamento extern register e static cambiano lo scope di questi identificatori o di variabili o di funzioni due le abbiamo già viste una si chiama extern una è extern l'altra è register no una sola l'abbiamo vista chiedo scusa l'altra è register non abbiamo parlato di register la terza è static allora extern l'abbiamo già vista e in pratica fa sì che una variabile locale a una funzione sia visibile diventi globale cioè sia visibile anche da no chiedo scusa adesso stavo pensando ad un altro concetto premettere al nome di una variabile la classe di immagazzinamento extern vuol dire dire che quella variabile o quella funzione non è definita localmente in quel file ma è definita in altri file che saranno linkati insieme a quello lì mi spiego meglio per esempio io ho una funzione scrivo il prototipo di una funzione poi scrivo il main e il compilatore va oltre effettivamente nel main viene chiamata quella funzione poi il compilatore finisce il main va a cercare l'implementazione di quella funzione in quel file e non la trova perché non la trova non la trova perché la definizione di quella funzione sta in un altro file che sarà linkato insieme a quello beh se io faccio sto scherzetto senza mettere davanti al prototipo la funzione extern il compilatore si arrabbia se io devo mettere il prototipo nel file dove lo uso quell'identificatore ma se non c'è anche la definizione in quel file perché la definizione sta su un altro file allora io al prototipo ci devo premettere la classe di immagazzinamento externa è una variabile esterna sta su un altro file oppure è una funzione esterna sta su un altro file secondo la variabile la classe di immagazzinamento register questa è una cosa da gente sofisticata si tratta di questo è una richiesta che timidamente il programmatore fa al compilatore scrivere il register davanti al nome di una variabile significa che state dicendo al compilatore compilatore per favore quando questa variabile l'hai presa dalla RAM e l'hai messa sul registro se puoi lasciala su quel registro perché io poi fra poco faccio partire un for che la utilizzerà un milione di volte quindi non me la andai ogni volta a rimettere sulla RAM perché se ogni volta me la rimetti sulla RAM mi fai perdere due milionesimi di secondo ogni volta ma io lo faccio un milione di volte e quindi mi fai perdere due secondi invece lasciala sul registro ma io ho pochi registri va bene il compilatore risponde io ho pochi registri ti ho chiesto per favore vedi se c'è un registro libero lascialo lì allora se il compilatore è mandato in esecuzione con dei parametri che servono per ottimizzare capace che recepisce queste indicazioni che gli stai dando e te la lascia sul registro quella variabile non te la va a rimettere ogni volta sulla RAM terzo ed ultimo static no 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 solo per le variabili grazie per la precisazione perché chiaramente stiamo a parlare che rimane su un registro a 32 bit o a 64 bit il valore di una variabile ultima static come abbiamo detto oggi le variabili locali di una funzione vengono allocate sulla RAM quando la funzione parte perché aumenta lo stack e viene allocata la variabile sulla parte di stack che è cresciuta quando la funzione termina si riabbassa lo stack e quindi quella zona della RAM si può riutilizzare se lo stack risalirà e sarà tutta altra roba cioè in pratica finita una funzione il valore di quella variabile locale alla funzione è perduto se riparte la funzione per esempio perché sta dentro un for quella variabile sarà riinizializzata di nuovo come da funzione se a me sta cosa non mi sta bene posso premettere al nome della variabile locale alla funzione la parola static sto parlando a programmatori evoluti non mi è mai capitato di vedere qualcuno che l'ha utilizzato questa tecnica in qualche esercizio spero che non mi capiti quest'anno però siccome è una potenza del linguaggio la illustro qui vedete la funzione stat ha due variabili una variabile cosiddetta automatica sentirete parlare di variabili automatiche sono le variabili locali quando sentite variabili automatiche vuol dire una variabile locale è una funzione auto var e un'altra static var questa static var sono entrambi interi ho premesso che è una funzione static è una variabile static cosa fa il main il main lancia stat cinque volte ogni volta lancia stat cinque volte la variabile auto var è inizializzata a zero dalla funzione e anche la variabile static var è inizializzata a zero essendo inizializzata a zero quelle ogni volta vengono inizializzate a zero e quanto valgono? zero e se io le vado a stampare stamperà zero e zero ma la variabile static dopo viene aumentata tanto quanto la variabile auto di uno ma la variabile auto viene inizializzata a zero invece la variabile static mantiene il valore che aveva in uscita alla precedente chiamata di quella funzione in pratica l'effetto che si fa è semplice invece che mettere sullo stack quella variabile la va a mettere il compilatore sul segmento dati la rende stabile statica in maniera tale che da una funzione all'altra si mantenga il valore è una potenza del linguaggio può servire per certi algoritmi ma non è necessario stiamo veramente arrivando alla fine la compilazione modulare è un concetto che abbiamo visto all'inizio quando abbiamo fatto l'assembly e il C noi possiamo assemblare più file codice diverso e presenti in più file dobbiamo compilare ciascuno e produrre il codice oggetto di ciascuno di questi file e poi tutti i codici oggetto vengono linkati assieme dal linker in C++ concretamente come si fa così allora questo spero che chiarisca tutti i dubbi e vi farà divertire spero allora qui vedete due file che costituiscono la mia applicazione e questo è normalissimo le applicazioni serie sono fatte sono compose da più file che stanno in una cartella non gli esercizi che farete voi che stanno su un file solo però quando si va a fare le cose sul serio saranno tanti i file che costituiscono un'applicazione e tutti .cpp ognuno con il suo nome ovviamente per compilarli assieme si lancia il compilatore e si mette uno dopo l'altro i nomi di questi file o lo fate da riga di comando o sull'IDE mettete un comando lo definite voi che ve lo faccia per voi questa roba poi meno o e date il nome dell'applicativo il nome dell'eseguibile che dovrà risultare dal linkaggio di tutto quanto allora in questo esempio ovviamente per stare tutto su una slide abbiamo messo due file soli ma il numero di file è quanti ne volete voi qui vedete o a ovviamente i file sono tanti ma il main è uno solo cioè solo uno dei file può tenere il main quindi dove sta il main eccolo qua il file 2 ha il main int main manda una stampa cioè chiama una funzione stampa è un'applicazione banale serve solo per illustrare la programmazione modulare in questo file questo qui c'è la funzione stampa non c'è la funzione stampa però c'è il prototipo della funzione stampa della procedura stampa perché è un void per cui il compilatore non si arrabbia perché quando compila questo file vede che stampa è il nome di una procedura che non prende niente in input va oltre arriva qui vede la chiamata di una funzione stampa che non prende niente in input ok funziona ancora non sa cosa è stampa però c'è corrispondenza non si arrabbia il compilatore lì però vedete che c'è una variabile globale x che è inizializzata a 5 di tipo intero le librerie basta includere in una qualsiasi perché quando vengono elencate l'inclusione di quello lì funziona anche per gli altri di qua che cosa abbiamo abbiamo la definizione della funzione stampa che di là non c'era perché praticamente il main l'ho fatto io e questo qui la funzione stampa l'ha fatta lui e ovviamente io ho lavorato su un file lui ha lavorato su un altro file ovviamente cioè non era ovvio però è comodo fare così allora tu hai messo lui ha messo la funzione stampa che fa una roba una stampa che però guarda un po' questa funzione chiama la x chiama una x non si sa quale x è questa che x è questa c'è sopra la definizione di una x definizione no infatti eccola là la definizione nell'altro file sta ma qui sopra c'è la dichiarazione della x c'è extern int x cioè lì c'è una direttiva al compilatore che dice compilatore quando incontrerai qui dentro questo file la x non ti preoccupare sappi che è il nome di un intero ma io non lo trovo qui questo intero infatti non lo trovi perché sta su un altro file nell'altro file ovviamente la x deve essere globale però altrimenti non sarebbe visibile se quell'int x fosse stata definita qui dentro sarebbe stata visibile solo dentro questa coppia di parentesi graffe quella là non la poteva vedere quindi deve essere messa fuori da int main quella x perché questa la possa vedere e perché questo la possa vedere bisogna che prima ci scrivo externa cioè sta in un altro file ecco come si deve lavorare quando si lavora con la programmazione modulare nel senso che con una programmazione collettiva fatta di tanti file quanti sono i file e applicazioni serie possono arrivare anche a 20 30 file anche di più le funzioni di libreria dovete imparare a conoscerle perché ce ne sono tantissime spero se riesco ad essere veloci farò vedere anche funzioni di libreria non del c++ funzioni di libreria che sono straordinariamente potenti che sono state fatte negli anni in c++ e che stanno per esempio per gestire le immagini i video i suoni la grafica i giochi il rendering 3D chi più più ne ha più ne metta una volta che hai capito come funziona la libreria fare un programma per fare un videogioco diventa relativamente relativamente semplice molto relativamente effettivamente però quelle che ho elencato su queste slide sono le cose che dovete le funzioni di libreria che dovete conoscere per fare gli esercizi d'esame ve lo riportate su queste slide e in particolare vedete qualcuno me ne ha chieste le funzioni random per generare diciamo una volta per tutte perché tu poi anche un altro mi sembra abbiamo parlato dei numeri casuali si possono generare al computer numeri casuali? c'è un programma un programma un software può generare un numero casuale? il concetto di casualità non appartiene all'automatica il concetto di caso stesso dal punto di vista filosofico potrebbe non appartenere al reale sicuramente non appartiene all'informatica esiste una funzione in C RAND che produce numeri cosiddetti casuali ma in realtà sono numeri pseudo casuali cioè sono numeri che hanno una distribuzione statistica entro certi limiti costante ma la funzione RAND quando la lanci sempre la stessa sequenza infinita di numeri casuali produce sempre la stessa a meno che con S RAND non gli dai un innesco diverso tutto questo vedrete quando studierete andate su internet e le capite però lo voglio anticipare la funzione S RAND se volete fare dei giochi per esempio avete bisogno di numeri casuali dovete inizializzare S RAND dandogli un seme e questo seme tipicamente viene preso dall'ora dall'orologio o dal colore dei pixel dello schermo o dalla posizione del cursore del mouse sullo schermo cioè si prende un'informazione che viene dal mondo esterno e la si usa per inizializzare la sequenza di numeri casuali gli ultimi due ho finito due concetti e ho finito banali 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 non so l'overheading delle funzioni questo è un concetto che in C non c'era e appartiene al C++ e cioè è il concetto che si può dare lo stesso nome a funzioni diverse uno l'abbiamo già incontrato quel simbolo con le due parentesi angolari che usiamo col CIN e quell'altro che usiamo col CAUT sono esempi di funzioni sovraccaricate cioè sono funzioni che hanno lo stesso nome che è proprio quel simbolo lì quei due caratteri ASC che però fanno partire una funzione oppure un'altra a seconda del tipo degli argomenti che gli viene passato questo concetto di dare a funzioni totalmente diverse lo stesso nome si chiama sovraccaricamento delle funzioni ovviamente però fra di loro si devono differenziare perché altrimenti come fa sapere il compilatore quale deve usare si differenziano per il tipo e il numero dei parametri che prendono in ingresso queste funzioni ma possono avere lo stesso nome per esempio concludo questo concetto radice quadrata io potrei avere un programma per calcolare la radice quadrata del numero reale un altro programma per calcolare la radice quadrata del numero immaginario in un caso ci avrebbe un argomento solo in un altro ce ne avrebbe due i programmi sarebbero totalmente diversi ma gli posso dare lo stesso nome è inutile che chiamo una radice quadrata di numero reale e quell'altra radice quadrata di numero immaginario la chiamo radice quadrata poi se gli passo un numero immaginario partirà un certo programma cioè se gli passo due argomenti parte reale e parte immaginaria partirà un certo programma se gli passo solo un numero partirà quell'altro l'ultimo C++ e questo è una cosa che una grande potenza del linguaggio C++ il concetto di template di funzione in pratica non è una funzione vera e propria ma è tantissime funzioni è un po' come il concetto di sovraccaricamento però in realtà qui l'idea è questa qua io voglio una funzione che mi restituisca il maggiore di due valori che io gli do indipendente che saranno interi o float o char comunque il codice sarà lo stesso se A è maggiore di B restituisci A altrimenti restituisci B come faccio a definire il tipo se io definisco il tipo dovrò avere tante funzioni per tanti quanti sono i possibili tipi allora il C++ ti consente di con questa sintassi qui di lasciare non definito il tipo di mettere qui questo tipo indefinito prima del nome della funzione e di dire che A è di tipo T e di B di tipo T ma T che è? funziona se voi gli passate due char funziona se gli passate due int funziona se gli passate due flotte funziona funziona questo è il concetto in maniera molto sintetica tipico che non c'è in C C++ di template di funzione bene per oggi ho finito ci vediamo la settimana prossima